Benvenute e benvenuti al Chiostro Nina Vincchi per un incontro dedicato ad A Hamlet. Oggi parleremo credo anche per tangenza dello spettacolo, ma soprattutto ci concentreremo sulla pubblicazione della traduzione del testo ad opera di Federico Bellini, che è ringrazio, e visto che parliamo di editoria, di edizione di un testo teatrale, che naturalmente molti di voi avranno sentito risuonare in questi giorni al Teatro Studio, abbiamo pensato fosse interessante avere con noi Federica Mazzocchi, che oltre a essere docente di discipline dello spettacolo all'Università di Torino, è anche editore. In questa occasione sei curatrice, segui una collana che ha per obiettivo appunto la pubblicazione di testi teatrali, di testi teatrali viventi, nel senso che, come ben sapete, la traduzione di Federico Bellini, la traduzione di un Hamlet, poi parleremo anche della dimensione filologica del tuo lavoro e del rapporto con il testo originale, naturalmente, ma la parola di Federico è parola viva perché è in scena, grazie alla regia di Antonio Latella, tra l'altro appunto in una genetica estremamente complessa di messa in scena perché il nostro Hamlet è stato il primo spettacolo vittima della chiusura dei teatri nel 2020, senti, io ho questo ricordo dell'ultimo giorno di prove quando appunto ci fu comunicato e furono Antonio con Sergio Escobar a comunicare alla compagnia e anche a chi di noi del teatro era presente quel giorno, l'impossibilità anche di provare. Quindi una lunga gestazione e un lungo lavoro nella produzione del testo, nel lavoro del traduttore e una lunga gestazione è appunto una genesi che ha intercettato la complessità del presente e del presente di tutti noi, che ha portato poi alla messa in scena dello spettacolo in una prima versione nel 21 e adesso in una versione diciamo più simile forse all'idea originaria di Antonio che potete vedere al teatro studio. Allora la prima domanda naturalmente è per te Federico e ovviamente parlando con Antonio abbiamo definito visto anche le modalità e la forma della prima parte della rappresentazione che Antonio associa spesso come campo semantico all'orazione, all'oratorio eccetera, abbiamo parlato di Bibbia del teatro, l'espressione è sua quindi io la ripeto, tradurre la Bibbia del teatro. Insomma tu non è stata la prima volta per te però in questo caso con una missione molto precisa cioè quella di arrivare a una forma pura della parola. Ecco come è stato il tuo primo approccio? Mi hai detto che ci hai lavorato un anno e mezzo ecco partiamo da qui, la Bibbia del teatro e il suo traduttore. Buonasera innanzitutto, se non mi sentite ditemelo perché io parlo piano è un grave difetto. Sì la Bibbia del teatro, quando Antonio mi propose di tradurre Amleto ovviamente io ero allibito se impaurito e a tradurre il testo sacro in sostanza di quelli che fanno il nostro mestiere, non solo, la letteratura. La prima cosa che devo dire, che mi sento di dover dire, è che avendo fatto un Amleto, avendo collaborato ad un Amleto dieci anni prima, avevo in mente alcune, molte parole. Poi per il mio lavoro è abbastanza normale avere in sostanza parti di testo in memoria. E allora la prima cosa da fare era dimenticarsi tutto quello che si era imparato rispetto al testo. E chiaramente è stato il lavoro più difficile, perché oltre ad aver visto anche vari Amleti come spettatore, ci avevo anche lavorato su una traduzione molto bella di Serpieri. Quindi il tentativo era difficile perché doveva andare anche oltre te stesso. La cosa te lo suggerisce Amleto stesso nel testo, quando dopo che arriva lo spettro dice che devi cancellare tutte le tracce della tua memoria, tutto quello che hai inciso nella tua memoria, per essere in qualche modo attivo. E questo è un suggerimento che lui ci dà e credo sia straordinario. Quindi quello che ho cercato di fare, ovviamente, in quella che è per forza di cose una mia versione dell'Amleto, non esiste una versione, credo, oggettiva. Se volete ne parliamo anche più diffusamente. Amleto, innanzitutto, ci è arrivato in tre edizioni diverse. Quindi da un'edizione chiamata Primo in Quarto, o Bet Quarto, una seconda edizione che è considerato il Good Quarto e una terza edizione nel 1623 che è chiamata In Foglio. Quindi la prima cosa che ho fatto è cercare di ricostruire un potenziale testo di Amleto per quello che potevo fare. Ad esempio, il Primo in Quarto, in linea di Massima, viene ritenuto quasi derivato da una tradizione orale, ovvero veniva chiesto agli attori di recuperare quello che loro avevano detto. Quindi abbiamo un Hamlet fisso? A mio avviso no. Esiste una ricostruzione di quello che è stato Amleto. Per cui, quando ho iniziato, ho pensato soprattutto a questo, a cercare di vedere le tre versioni e a dimenticare tutto quello che sapevo. E la cosa che vi anticipo, che mi ha più colpito, è che ogni volta che mi sembrava facile tradurlo, stavo sbagliando tutto. Cioè ogni volta che credevo di conoscere quella parola, perché era una parola magari di uso comune, andavo a vedere poi nel dizionario anche, eccetera, e non era quella. Non era quella e quindi il lavoro era, su ogni parola, andare a cercare anche dall'etimologia, da dove derivava, no? Andare a cercare, non dico la purezza, ma quello che era il pensiero che portava a quella parola lì. Mi piace molto questo concetto del dimenticare. Per citare un grande maestro come Jim Morrison, learn to forget. Sì, bisogna, per imparare, bisogna dimenticare. Ma non solo per questo, non solo tu, in quanto autore di una traduzione, hai dovuto farlo, ma anche noi spettatori, sentendo la tua parola, la parola della tua traduzione, ovviamente impaginata in modo magistrale dalla Tella e dai suoi attori, abbiamo l'impressione forse di aver dimenticato Amleto, o di sentirlo per la prima volta, proprio per il lavoro che tu hai fatto, non solo nella collazione, come dicono i filologi, tra le varie versioni del testo, ma proprio per la scelta dei traducenti, che danno alle parole una dimensione, una forza e una purezza davvero inedita. Beh, grazie, è un tentativo, è un tentativo, che va incontro a un fallimento inevitabile, perché purtroppo una traduzione oggettiva di Amleto, io credo sia impossibile, non lo è per me come lo è per molti altri, molto più illustri predecessori. Il punto, credo sia proprio quello, cioè non dare nulla per scontato in questo testo, ogni battuta è talmente densa, e ogni battuta racchiude in realtà addirittura ogni parola la domanda sulla senso della parola stessa. Quindi ogni parola ti pone di fronte a un bivio e ti chiede scegli. Io inizialmente in modo abbastanza presuntuoso dicevo, vabbè, questa è la parola. No. Perché questa parola ha tre significati. Quale scegliamo? E questo è il punto. Quindi il bivio che lui ti mette di fronte, quell'essere o non essere che citiamo tutti, in realtà è su ogni singola parola. Ed è terrificante da un certo punto di vista, ma anche bellissimo. In questo, scritto nella prefazione, il testo è amletico. Amletico nel senso che è misterioso nel suo statuto di verità, diciamo. Nel suo essere e non essere continuamente. Ecco, se vogliamo citare il monologo dell'atto terzo che tutti conosciamo. E poi ogni parola ha in sé invece un mondo che è pazzesco. Un mondo che racconta tantissimo. In questo ho cercato minimamente di raccontare. A volte ho cercato di far emergere i sottotesti, cioè quello che la parola aveva sotteso sostanzialmente. Quindi magari l'avete sentita per la prima volta perché credo che il sottotesto fosse quello. Cioè volesse dire quello. Ecco. Poi è chiaro che siamo di fronte a un'interpretazione. Su questo non credo sia possibile fare il contrario. Certamente. Il traduttore è traditore come viene detto spesso. Oggi va così con le citazioni. mi sono assegnata delle parole che effettivamente si ancorano una su tutte perché non voglio poi annoiare e vorrei anche parlare con te proprio facendo riferimento a quanto ha appena detto Federico. All'inizio come tutti sappiamo appare il fantasma. Appare il fantasma è di solito il traducente se non ricordo la parola in inglese però parliamo di un castello e parliamo degli spalti del castello generalmente. perché è lì che le ronde di guardia hanno luogo sugli spalti della fortificazione. La tua traduzione è palco e ovviamente visto che il tema teatrale tu hai parlato di sottotesto e il tema della realtà e la sua rappresentazione è veramente parte e sostanza di Amleto ma è anche parte e sostanza della messa in scena di Antonio questo traducente mi ha colpito molto perché effettivamente palco per spalto è una scelta è una scelta interessante. Allora è una scelta complessa ci ho pensato ovviamente molto devo fare una piccola precisazione per capire perché il testo che io ho utilizzato dice la prima di Dascalia entrano Francisco e Bernardo ok chi è là no rispondi tu fermo e svelati sei stato qui da molto sì è tutta la notte che sono qui spiegatemi come è possibile logicamente se entrano Francisco e Bernardo questo è un punto cosa stanno facendo cioè non sono lì da tutta la notte quindi stanno recitando è una domanda allora gli esegetti cosa hanno fatto in varie versioni anche nell'infolio hanno hanno riscritto quella parte perché hanno visto che era incongruente e quindi hanno detto sì Francisco e Bernardo stanno sulla piattaforma vicino ai cannoni di Alsinor e stanno di guardia da tanto tempo tecnicamente non dovrebbe essere così ma entrano Francisco e Bernardo quindi entrano entrano la parola è platform palco ho tradotto non so se è una forzatura però nello stage elisabettiano platform era la parte sopra del palcoscenico quindi è per quello che ho tradotto così proprio nell'ottica di cercare tutti i sensi della pratica teatrale che lui mette altrimenti certi episodi di Hamlet non sarebbero secondo me comprensibili tutta la querelle diciamo sul teatro londinese che è anche abbastanza assurda se vogliamo fatta in Danimarca la logica tra i marloviani diciamo e gli shakesperiani non avrebbe senso se Shakespeare non ha davvero intenzione di parlare di teatro fin dall'inizio non soltanto da quando arrivano comici barra attori in quello che tutto sappiamo usa play nel primo monologo io non recito e questo è veramente è veramente importante credo esatto questo ritorno è molto interessante quello che ci hai raccontato e la presenza del teatro che ovviamente chi conosce Hamlet o conosce nella tua traduzione si riverbera quasi in modo costante in modo costante attraverso le scelte che sono scelte di traduzione sono scelte lessicali poi ovviamente la regia è un'altra cosa Federica vengo a te perché un lavoro come quello di Federico che è materia viva della rappresentazione è un bellissimo esempio del lavoro che tu stai facendo con scalpendi cioè tu stai pubblicando dei testi tra l'altro volevo leggere un frammento che tu hai questa tua dichiarazione che mi piace molto la leggo male perché non so leggere però mi piace e secondo me dà decisamente l'idea del tuo obiettivo e dell'obiettivo di questa collana i testi teatrali non sono scritture minori non sono abiti su una gruccia in attesa di essere indossati in scena né crisalidi che proteggono un nucleo in sonno risvegliato solo dal palcoscenico i testi teatrali sono scritture autonome compiute e la parola per la scena che si è scritto letta è sempre già movimento relazione dialogo dunque teatro mi sembra una dichiarazione di intenti molto precisa e molto vicina a quello che in un brevissimo momento ci ha già raccontato Federico cioè quanto movimento c'è nel lavoro che lui sta facendo questa è una traduzione di un classico però immagino che la collana abbia tante proposte diverse intanto grazie Anna per aver ricordato questa breve descrizione della collana grazie a tutti voi per essere qui sì quando io ho in realtà prima sentito il lavoro visto fare dalla tela l'Hamlet tradotto da Federico ho detto bisogna assolutamente pubblicarlo in collana e infatti arriva sesto di una appunto serie di numeri che hanno una caratteristica in comune sono scritture peraltro diversissime cioè da Pure Ischi a Tennessee Williams quindi non possiamo certo rubricarle nello stesso tipo di genere ma che cosa le unisce quello che insomma Anna ci ha ricordato cioè il fatto che certi tipi di scrittura per il teatro e personalmente quelle che io amo di più sono delle scritture perfettamente compiute cioè non attendono così il loro inveramento sulla scena ma generano con il lettore e spettatore un altro tipo di relazione cioè come se la pagina diventasse un piccolo palcoscenico in cui c'è già il teatro poi naturalmente questa parola che ci ha consegnato Federico viene ulteriore la nostra relazione si raddoppia quando abbiamo la fortuna di vedere lo spettacolo di Latella ma sono due tipi di relazioni differenti entrambe potenti secondo me appunto immaginiamoci come un palcoscenico di legno e un palcoscenico fatto della pagina due tipi di relazioni differenti ma ugualmente potenti in cui la parola determina ecco io quando ho letto il testo di Federico la traduzione di Federico ho detto appunto dobbiamo farla assolutamente speriamo che ci dica di sì lo sventurato rispose perché è stato comunque anche una elaborazione piuttosto lunga ma insomma ce l'abbiamo fatta è andata tutto bene e dicevo perché anche se il modo di procedere di Federico non è un modo testoriano però evo col nome di Testori perché Testori dice secondo me è una cosa cruciale sulla scrittura per il teatro cioè la parola materia la parola corpo nella scrittura di Federico che non a caso è un autore perché io adesso parlo contro la mia categoria di professori ma secondo me le traduzioni per il teatro andrebbero fatte fare dagli artisti come Federico perché hanno una relazione con la dimensione scenica che un professore insomma tranne rarissimi casi non ha e quindi tende a spostare tutto sul piano letterario sull'ornato sulla su altre cose non voglio dire di più che poi divento troppo insomma giudicante appunto che cosa diceva Testori la parola corpo la parola materia ovvero il luogo del teatro è già la parola che poi trova appunto una differente vita un'altra vita un'altra dinamica esistenziale nella dimensione scenica e questa autonomia che ho sentito dentro la pagina di Federico e questo dinamismo Testori se non mi ricordo male parlava di struttura pressione scatenamento la parola questa un certo tipo di parola ha questa grande qualità dinamica performativa già appunto alla lettura già sulla pagina e io ho trovato questi valori e nella suo lavoro e mi hanno entusiasmato perché un testo come diceva giustamente Anna che può possiamo con cui possiamo perdere il contatto proprio per la sua complessità con Federico questo non accade mai perché non perché lo semplifichi non perché faccia un'operazione divulgativa non perché faccia un'operazione men che meno attualizzante ma perché ci mette dentro questa macchina di movimento generata dalla parola con una chiarezza un nitore e una secondo me un'efficacia rara io penso che questa traduzione rimarrà davvero come un modello poi dicono le traduzioni invecchiano cosa peraltro come tutte le cose però cos'è che non invecchia secondo me magari invecchierà chi lo sa vedremo ne riparleremo fra qualche decennio però che cosa non invecchia il tipo di relazione con la parola che appunto come lui si è messo in rapporto con questo materiale e insomma ritengo che sia veramente una grande felicità conoscerlo in tutte e due le sue dimensioni quella su pagina e quella poi nell'incontro con questi attori meravigliosi che davvero sono un'esperienza indimenticabile faccio anche una domanda Federico se posso perché mi sollecita molto questo elemento della metateatralità è potentissima in Shakespeare soprattutto in questo testo ed è molto prismatico cioè è una metateatralità che si esprime in mille forme diverse come facciamo a trovare un bandolo grazie per quello che hai detto prima non so quanto durerà questa traduzione nella prefazione ho scritto può durare un minuto ma non per mettere le mani avanti è così però al di là di questo la metateatralità per me c'è dall'inizio non è soltanto quando arrivano gli attori a corte è nel primo monologo di Amleto questa è una parte che io posso recitare recito male potrei recitare questa parte usa play non è una questione non userebbe quello quando dice quando la memoria avrà io ho tradotto con una certa libertà una sedia riservata in questo folle globe perché utilizza globe non earth non world ma globe e Shakespeare utilizza world e utilizza earth ma perché globe e sappiamo benissimo che è il teatro di londra dove lui rappresentava e tutti questi piccoli grandi elementi rientrano a un certo punto mi danno anche una certa spiegazione ad esempio la cosa più evidente che vedete in uno spettacolo è questa rappresentazione dello spettro no? sembra ghostbusters a un certo punto sembra divertito bisogna crederci o no questo è il punto è buffo Camleto dopo lo spettro si metta dopo la grande rivelazione dello spettro si metta a folleggiare a fare il cretino con lo spettro ah vecchia talpa cosa fai qua? psicologicamente non ha senso allora se siamo dentro una rappresentazione o siamo dentro un'altra cosa? questa è la domanda che lui ci pone continuamente poi c'è la metateatralità esplicita arrivano gli attori a corte e parlano in rima che è una cosa non sempre che ho letto in altre volte e quello ho cercato con una certa libertà di significato di restituire cioè che cosa significa parlare in rima? che statuto di verità e di menzogna ha parlare in rima? a volte anche Gertrude parla in rima perché? stai recitando? stai citando? è un fatto pazzesco se ci pensiamo e in questo questo è l'episodio più più eclatante della metateatralità cioè di di come sono attori che stanno recitando questa parte lui stesso è in realtà fa sembrare di essere un attore perché tutta la parte del vigoroso Pirro in realtà la conosce tecnicamente accenna lui ah no 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 poi dopo gli fa ma no vai avanti tu quindi cosa succede lì? quale cortocircuito succede? la stessa cosa che vi dicevo prima a un certo punto c'è una discussione molto lunga sul teatro londinese di quel periodo in cui diciamo i marloviani o quelli che seguivano marlov stavano prendendosi Ercole e il suo carico che significa prendersi Ercole e il suo carico? è una battuta in italiano senza senso ma se noi pensiamo che l'Ercole era figurato all'ingresso del Globe Theatre forse iniziamo a capire cioè la rappresentazione di Ercole and his load di Shakespeare ecco perché è tutto metateatrale il guscio di noce è il teatro da dove lui vede questo infinito a un certo punto in quel monologo straordinario che lui fa dove dice l'uomo è un capolavoro io potrei se non facessi brutti sogni potrei fare potrei stare potrei stare benissimo in questo luogo così chiuso ma poi c'è la vita e la vita lo porta dall'altra parte sì in questo teatro mondo è veramente presentissimo e la tua traduzione rende molto chiaro come dicevamo prima anche da quella mia forse più pedante pedante spunto dal traducente spalti palco che però è un segnale molto evidente del lavoro che tu hai fatto che è un lavoro appunto che mette in luce che rivela qualcosa che nel testo c'è è vero che tu hai fatto poi questo bellissimo raffronto tra le tre edizioni hai lavorato su tre edizioni e questo si vede perché effettivamente anche chi è profano e magari ha letto amleto o l'ha visto rappresentato in teatro si accorge che ci sono dei frammenti delle parti che sono presenti che generalmente o vengono tagliate o proprio non sono presenti nell'edizione poi rappresentata in teatro per cui insomma una speleologia complessa e un corpo a corpo con il testo che però diventa poi anche corpo a corpo per riprendere una tua espressione testoriana con l'attore nella tua introduzione al volume tu parli di dicibilità cioè ti sei posto il problema della dicibilità perché effettivamente è un diluvio di parole la tragedia più lunga di Shakespeare questo si sa in più l'edizione lateliana ce la consegna nella sua integrità e la tua il tuo lavoro filologico ricompone una dimensione di fonte addirittura tripartita ecco la dicibilità che cosa è stata per te che cosa ti chiedevi tu nel momento in cui andavi a scegliere un termine pensandolo in bocca e nel corpo della tua allora vabbè io sono un po' agevolato se non altro dal fatto di essere un dramaturgo cioè di lavorare in teatro e quindi la prima domanda che mi faccio ogni volta che scrivo un testo o che adatto un testo come sta in bocca ad un attore alle volte è letteratura quando è letteratura senti che c'è qualcosa che non vive sul palcoscenico la parola a teatro vabbè dicono vietà è fatta per essere detta Shakespeare ovviamente ma anche una compagnia lui stesso era in scena quindi sono parole che devono essere dette al di là della poesia una cosa che ci frega spesso da Amleto è la bellezza cioè sono parole straordinariamente belle e ci dimentichiamo che hanno un carattere anche performativo soprattutto performativo il caso più eclatante è il monologo dell'essere o non essere che noi intendiamo sempre come un grande monologo esistenzialista vediamolo in chiave anche performativa a chi si sta rivolgendo a se stesso o a qualcun altro a chi sta parlando perché è strano se ci pensiamo c'è un solo monologo del testo dove lui dice io ora sono solo e infatti parla un'altra lingua parla una lingua volgare si svuota si svuota parole dice sono come una vacca a un certo punto è terribile quello che dice perché non è ascoltato non è udito in quel momento e può parlare e sulla dicibilità ci sono tante cose da dire io credo che una delle cose principali sia leggerlo ad alta voce sembra una banalità ma va fatto perché altrimenti diventa parola letteraria o parola in qualche modo da libro morta morta permettetemi non mai morta però che non ha quell'energia interna che dovrebbe essere invece nell'atto performativo da recitare dell'interpretare o dell'eseguire una cosa che ho cercato di fare in qualche monologo è rispettare ma non l'ho fatto per tutto il testo perché è impossibile certe figure retoriche che Shakespeare utilizza all'interno del testo ve la faccio brevissima magari qualche esempio proprio per per capire se io dico sto dicendo sto facendo una letterazione della S se io dico sentite c'è già la stilettata di quello che sta dicendo come se fosse uno stilo che ci entra dentro attraverso la letterazione la ripetizione di questa S che in inglese è molto chiaro in italiano è molto difficile credo renderla io ho provato ovviamente nei miei limiti a provare a restituirla perché già nel suono c'è quello che sta dicendo ed è ed è pazzesco questo è un lavoro che ho cercato di fare soprattutto nei monologhi perché quelli che in qualche monologhi che poi sono sempre anche quelli performativi nel senso che presuppongono un'interazione però ho cercato di rispettare certe figure che lui tiene ed sono importanti io credo è molto importante il lavoro che hai fatto sul suono perché effettivamente sappiamo che Shakespeare scrive in pentametro giambico che è un verso che noi appunto non possiamo riprodurre il lavoro sul suono si nota molto anche ci sono canzoni canzoni e poesie e tu hai fatto un bellissimo lavoro sulle canzoni e anche dichiari nel tuo testo che ci hai lavorato molto e ti sei concentrato molto sulle canzoni puoi dirci perché ovviamente lo possiamo immaginare però è interessante eh no perché trovavo delle canzoni rivelatorie cioè in qualche modo erano dei passaggi che spesso in varie edizioni d'Amleto venivano tagliate oppure non le sentivo e anche io stesso me le ho in qualche modo dimenticate ora se uno sta un pochino attento ad esempio a che cosa dice Ophelia che si è del tutto pazza insomma diventa abbastanza arbitrario nel senso che è abbastanza lucido quello che dice laerte infatti dice beh certo che se qualcuno potesse cioè se qualcuno fosse in grado di dare un senso a questo e questo un senso ce l'ha allora tutto sarebbe chiaro altrimenti non avrebbe senso quella battuta dellaerte il gentiluomo che la introduce dice sì hanno parole che hanno senso sulla metà però alcuni cercano di rattoparle e dandoci un senso che poi diventa logico e anche lì la questione sullo statuto di verità di quello che sta dicendo Ophelia è pazza o no? cioè o sta sta utilizzando una follia per dire delle cose magari Gertrude è una possibilità non dico che sia giusta ma è una possibilità stessa cosa per i becchini che poi sono clown che fanno i becchini in realtà c'è un doppio livello e se si guardano le canzoni sembra un presagio di morte terrificante quello che dicono e proprio stanno dicendo all'interno di un cimitero d'Amlet e sembra proprio è molto chiaro quello che dicono è molto chiaro e rivelatorio in qualche modo e per me è testo cioè non è non è buttato là è drammaturgia pur poi uno può tagliarle farne quello che è però dicono molto raccontano molto o perlomeno mettono molti dubbi questo sì questo è certo a proposito della natura amletica del testo come come hai detto precedentemente Federica hai un'altra domanda per Federico? certo dunque stavo perché come avete capito insomma sono abbastanza persa innamorata persa di questa traduzione allora Federico ci ha cominciato a mettere sull'avviso di un aspetto molto interessante del suo lavoro che è quello di decidere il punto di vista misurarsi col punto di vista come ci hai appena detto rispetto a Ophelia raccontaci un po' appunto le difficoltà proprio relativamente a questo alla scena dice sì anche alla ricerca di un punto di vista su chi parla chi ascolta rispetto per esempio anche alla complessissima scena di Gertrude con Amleto ecco ci sono dei livelli di mistero potremmo dire che però in qualche maniera il traduttore lo dico deve scioglierlo perché ovviamente non è il suo compito ma deve in qualche maniera prendere posizione e come si fa? sì è una domanda complessa cerco di rispondere in modo più chiaro possibile io credo che ogni personaggio parli una propria lingua sto dicendo una ovvietà però penso di sì una traduzione virgolette piatta dove c'è un unico linguaggio credo sia traditrice dello spirito dell'opera avete visto ad esempio Reinaldo questa figura secondaria che parla in spagnolo sembra un vezzo in realtà nasce dal fatto che Reinaldo nella prima versione del primo in quarto era probabilmente ispirato a Reginaldo Montano che era uno dei primi teorici dell'inquisizione dei primi critici dell'inquisizione spagnola quindi è per quello che viene mandato allora a sorvegliare la Hertha in Francia questa è una questione molto specifica mi rendo conto però ha una sua lingua Gertrude ha una sua lingua Gertrude a volte parla in rima che è assurdo sta recitando la questione che io posso porre a tutti è come può Gertrude raccontare così dettagliatamente la morte di Ophelia questa è una domanda enorme come fa? c'era? gliel'hanno detto? sembra una sciocchezza ma descrive come se ci fosse una radio una telecronica una radio cronaca quindi ha una lingua particolare la stessa lingua di Amleto a volte è contestuale invece a mio avviso lui parla una lingua a seconda di dove si trova si trova vicino alla madre alza il linguaggio alla fine del terzo atto la lingua è altissima no? è per quello che quella scena è anche molto difficile perché onestamente lui inizia a parlare una lingua quasi biblica cioè inizia a alzare il linguaggio in modo altissimo in modo altissimo mentre a volte lo abbassa in modo terribile e mentre la lingua di Amleta diciamo è più che altro contestuale avete ascoltato magari la lingua di Polonio che invece è una lingua strategica quasi sempre retorica nel senso buono se esiste della parola cioè una lingua che fa della tattica la sua come dire la sua ragione d'essere tant'è che nella prima battuta Gertrude lo accusa di utilizzare l'arte retorica o di giocare con le parole è tutt'altro con lo stupido Polonia il consigliere cioè voglio dire questo a volte è un cortigiano è il primo all'italiana all'italiana però per essere lì deve avere una certa capacità no? un alto livello lo stesso Claudio è particolarissimo nel primo monologo dove fa una sorta una serie di ossimori con un cordoglio ostinato con allegria nel matrimonio eccetera eccetera un'allegria nel funerale e il cordoglio nel matrimonio utilizza sempre parole che non stanno insieme per forza e allora quanta ironia c'è in quello o quanto tacito accordo c'è in quella riunione con quello che lo stanno ascoltando chi ha ucciso veramente Hamlet padre cioè sono tutte domande che il testo pone chiaramente sono domande enormi e ritornandolo a quello che mi hai chiesto sì per me è un'opera mondo dal punto di vista anche linguistico soprattutto cioè ti pone sempre nella nella difficoltà di cercare di comprendere il contesto e di tradurlo in un linguaggio e anche in uno stile ecco è quasi alterni poi non so arrivano i vecchini e allora utilizzi un altro stile lì arriva Polonio appunto come dicevo non è una non è una cosa che come dire è fatta per essere detta è fatta perché i personaggi abbiano una loro lingua e questo io credo sia importante non so se l'ho fatto bene ma il tentativo è stato quello di fare di fare questo di sentirli parlare di farli vivere non ci sono credo molte forzature in questo credo che nell'originale sciasperiamo ci sia questo sì e poi il fatto il plurilinguismo dell'opera originale che poi si traduce appunto molto bene nelle tue scelte riflette questa sorta di mimetismo dei personaggi in particolare di Amleto che effettivamente per ogni situazione come ben dicevi tu precedentemente assume un ruolo cioè questo fa parte del suo essere magmatico mercuriale un po' però visto che hai parlato avete parlato precedentemente di metateatralità e anche la lingua è metateatrale perché un po' come rappresenta la forma del teatro elisabettiano che ha dentro di sé tutta una serie di genere di registri infatti quando si ascolta Amleto io penso ai francesi che nei secoli successivi tenteranno di educare Shakespeare e renderlo e in qualche modo renderlo conforme al loro aristotelismo di maniera che poi di fatto così è quindi edulcorarlo educarlo alle unità di luogo ed azioni di tempo trovare una lingua cosa che ovviamente è stata impossibile il lavoro che cerca di fare anche Voltaire ecco vedere questo mondo e la tua traduzione traduce perfetta scusate il gioco di parole però riflette questa vivacità e questa unicità del testo di base cioè rispetto anche a quanto avviene intorno in Europa in quel tempo cioè se pensiamo che cosa succedeva in Europa sentire Shakespeare così ti dà l'idea dell'unicità di quella tipologia di forma di partenza sì ad esempio quando arriva Oserich lo vedete alla fine parla un linguaggio estremamente manierista affettatissimo di finto intellettuale non so li vediamo anche oggi in sostanza è una lingua vuota come lui dice sono bolle di sapone ci sta cercando di fregare ma in realtà se tu vai a vedere che cosa sta dicendo cos'è no? è retorica pure ma è retorica fatta ad uso e consumo della come dire della situazione ed è interessante poi c'è un'altra questione fondamentale la questione è che siamo in un regno marcio corrotto e barbaro in cui c'è una questione anche generazionale dei ragazzi vanno a studiare a Wittenberg cioè nella culla dell'umanesimo e uno se ne va in Francia non è un affatto da poco i giovani stanno andando a studiare l'umanesimo forse o comunque la letteratura senza forse per Amleto Arazzi laerte un po' più è libertino ma sta andando a studiare quando tornano dai padri i padri parlano quell'altro tipo di linguaggio non si riconoscono molto tanto è vero che a quel punto non avrebbe senso che Amleto e laerte si riconciliano in fondo perché comunque parlano la stessa lingua ecco questo è un aspetto interessante secondo me è molto forte lingua dei padri lingua dei figli effettivamente è abbastanza evidente io adesso però ti porto una domanda noi abbiamo parlato di traducenti e di di sforzo di traduzione cioè di travaso da una lingua di partenza così variegata addirittura più versioni quindi immagino anche nella tua confronto delle versioni dei due quartos e dell'infoglio varianti continue un lavoro veramente vertiginoso ti porto una domanda invece che viene direttamente dal pubblico perché mi hanno chiesto di fartela perché molti spettatori hanno notato la presenza di parole inglesi lasciate intatte in particolare il saluto farewell alcune persone io qui faccio veramente il travaso mi hanno detto ma è una forma anche un po' ironica dello spettacolo ironico in alcuni momenti prendo un distacco conservando l'originale in qualche modo invece introduce un elemento di distacco oppure i maligni non sapevano come tradurlo addio era troppo letterario ecco adesso dammi una risposta a queste domande che il pubblico ha portato a me perché questo farewell che ormai è entrato nell'osso lessico per cui noi ormai ci diciamo farewell quando ci incontriamo anche di Guccini eh sì sì c'è una canzone di Guccini Farwell molto bella certo e per Guccini veramente? no scherzo no beh poteva essere ho apprezzato la canzone te l'ho detto dopo gli schianti io ormai quando sento una cosa ben citato Jim Morrison eh vabbè allora citazione felice è farewell ok la questione è questa al di là delle mie dei miei tentativi di significati interiori su questa parola che non vi dico perché non ha senso farewell in inglese vuol dire due cose o addio o arrivederci perché devo scegliere io? sono cose molto diverse e io non voglio scegliere e se ogni scena quasi si chiude con questo è straordinaria l'ambiguità in cui lui ci mette addio o arrivederci non sappiamo se si rivedranno perché lo devo scegliere io il traduttore? è una forzatura questa secondo me e nello spettacolo si assume un significato estremo perché lo dicono tutti è l'unica parola inglese che viene detta parte un'altra però non sentivo giusto tradurlo è un po' come in Wild quando si cerca di tradurre Ernest non si può tradurlo ci sono dieci significati in quella parola e tradurre faccio questo esempio tradurre franco serio onesto non nessuno di questi è Ernest perché vuol dire anche un'altra cosa quando si parla a più livelli soprattutto in inglese ma anche in altre lingue ovviamente cerchi di rispettare la parola e cerchi di rispettare anche i livelli di pubblico a cui lui si riferisce cioè il target che lui sta cercando perché nel caso faccio questa digressione su Wild perché è talmente evidente perché in un titolo ha l'importanza di chiamarsi Ernesto che è sostanzialmente di essere Ernest che è interessante perché si rivolge a un tipo di pubblico che comprende il significato slang di quella parola in quel caso nell'Inghilterra vittoriana e c'è un tipo invece di pubblico che non comprende quella parola e dice l'importanza di essere serio quella parola è una parola volgare che comprende la cerchia di Wild la parola volgare è culattona la dico proprio come mi ha detto la dico brutalmente però così e la stessa cosa accade in Farewell Farewell perché devo decidere io e poi se c'è un significato emotivo che però me lo tengo per me Farewell è l'altra espressione inglese che rimane tale è Infinite che gli amanti di David Forster Wallace hanno riconosciuto subito beh sono contento se l'hanno riconosciuto allora è interessante perché due cose ogni tanto vediamo ho fatto il monologo dell'atto terzo col teschio che buffo l'essere o non essere col teschio che non ha senso il teschio viene trovato poi nell'atto quinto che è il teschio di Yorick se non si fa più così però una volta si faceva si faceva così che buffo ha una nascita un'esegese abbastanza precisa quando trova il teschio di Yorick lui dice beh sai Orazio è un uomo di un infinite gesto spasso infinito ironia infinita possiamo tradurre come vogliamo però è interessante che David Forster Wallace sono i più grandi scrittori degli ultimi 40 anni credo che piaccia o meno fa partire il suo libro più importante proprio da lì proprio da quella frase lo dichiara mi sono partito da Yorick perché è un infinito spasso quello che vi sto scrivendo e allora questo legame fra due per me e Jenny in modo diverso mi piaceva farlo vedere e far pensare che il pubblico possa vedere quanto dei geni riescono a comunicare a 500 anni di distanza perché comunque lì ha ragione Carmelo bene alcuni non hanno contemporanei purtroppo vanno hanno anche una brutta fine però no chi l'ha colta sono contento chi l'ha colta sono contento è stata colta assolutamente perché non solo gli amanti di Forster Wallace ma anche persone che magari non conoscono il romanzo ma hanno notato la parola in inglese quindi insomma nel magma di testo e nonostante l'estensione lo spettacolo devo dire che forse anche grazie a te non solo ai segni di regia e all'impostazione dello spettacolo la parola è molto presente nell'attenzione degli spettatori si tra l'altro è una chiave di lettura pazzesca di quel libro cioè per chi ha voglia e tempo e coraggio di leggere l'infinicesto si pensa che c'è molto amleto dentro ma molto amleto dentro allora se fai rimando a Iorik inizia a dare una chiave di lettura a quel testo lì che sfugge perché chiaramente è difficilissimo però però c'è quindi rilanceremo come possibile variazione amletica anche questo testo per i più coraggiosi e chi ha un po' più di tempo e di attenzione da dedicare alla lettura di un romanzo Federica allora devo dire che tutto quello che ci ha detto Federico Bellini è molto in linea con le intenzioni che tu dichiari nel breve testo che ho cercato di leggere sì infatti appunto la presenza di questo bellissimo lavoro di Federico in collana è perfettamente logica anche perché ci permette appunto di riattivare quella gioia quella vera felicità che è stato l'incontro per la prima volta con la parola detta dalla meravigliosa compagnia di Latela quindi appunto in un altro contesto in un'altra forma in un'altra dinamica uno a uno non più uno a molti riattiviamo con il volume questo incontro favoloso a me piace moltissimo anche il lavoro di Federico nelle parti più appunto più oscure più complesse più apparentemente quelle più scusate sacrificabili in un certo senso per esempio io amo moltissimo tutta la parte degli attori quando come dicono facciamo come i falconieri francesi tiriamo a vista e cominciano appunto queste rievocazioni perché non credo siano improvvisazioni sono proprio parti di testo che loro rilanciano ripetono sulla base della memoria ed è bellissimo lì perché intanto è emozionante perché senti questa vibrazione del ricordo che riemerge i tentativi che fa no non era così e poi anche i registri i tipi di registro che utilizzano gli attori che sono peraltro appunto molto diversi amo molto quella parte come ti sei mosso rispetto a questo ed io ero un pochino spaventato perché poi partiva quella parte degli attori a un riferimento preciso alla tragedia greca quindi bisognava alzare il linguaggio alzare il linguaggio e cercare non dico di usare un metro una metrica ma di riuscire a renderlo in quella per come poteva essere una traduzione di una tragedia greca quello che dice l'irsuto pirro o il vigoroso pirro e vedete anche gli spostamenti leggerete di aggettivi o di verbi in modo anomalo rispetto ad altre parti del testo perché quella per me è la tragedia greca tant'è che è divertente perché a un certo punto gli scappa questa regina imbaccuccata che fa schifo cioè la regina che arriva avvolta con i diademi eccetera eccetera imbaccuccata e poi l'onio fa c'è l'ho bella imbaccuccata e a me ha detto va come imbaccuccata cioè è interessante perché è un testo che contiene anche degli errori c'è voluti cioè dice imbaccuccata cioè mi fai questo bellissimo piangeremo tutti per ecuba e poi arrivi imbaccuccata cioè Polonio che non conosce quel tipo di letteratura proprio perché è uno dei padri cioè sì no per me non è male e invece no chiaramente lo è quindi da quel punto di vista sì c'è una riproposizione del linguaggio tragico dal punto di vista degli attori quando invece rievocano l'assassione di Gonzago invece la cosa per me fondamentale era la rima e di far vedere come Shakespeare potesse utilizzare la rima come geniale menzogna cioè come riuscire a mentire per quella è esplicitamente cioè riuscire a dire la verità mentendo utilizzando la poesia è un triplo salto mortale e anche le rime non così sofisticate questo mi interessava sì forse perché sono un po' una compagnia ecco forse di primissimo ordine e appunto si esercita su centoni un po' pensando anche alla realtà italiana pensare ai comici dell'arte questa forma di teatralità che si basa appunto su un repertorio che viene rispolverato a seconda della situazione e qui entra in un dispositivo di menzogna rivelatrice che è un po' il testo un po' così possiamo dire che tutto il lavoro che tu hai fatto si è sviluppato su questo filo del rasoio tra la menzogna e la realtà tutto il testo è veramente riflesso di questa sorta di metafora generativa che che lo anima e lo amplifica in tutte le sue parti io chiederei al pubblico se c'è qualche domanda se hanno visto lo spettacolo o se hanno letto la tua traduzione prego io ho già visto Hamlet ma lo vedrò la prossima settimana proprio perché voglio leggere la traduzione e poi rivedere lo spettacolo volevo dire alla professoressa Marzocchi che il litore e la carezza di questo passato si vede anche nella diciamo cioè è trasportato anche nella forma di questo libro quindi nella copertina nella carta e nel carattere che è stato usato ho un unico rammarico che le note di traduzione sono troppo brevi cioè sono troppo brevi per tutto questo esopro che invece avremmo potuto scoprire e sono traduzioni sono pubblicazioni grave queste dei draggi che invece sono davvero molto speciali poi per Federico Bellini avrei alcune domande la prima è che cosa gli ha chiesto la cosa cioè perché ha voluto un'altra traduzione perché l'ha già detto le traduzioni ce ne sono state anche sono ripitose perché gli ha chiesto una cosa voleva da questa traduzione se lei opera come drammaturgo di Montagnia quindi se conosceva quando ha tradotto già gli attori che avrebbero interpretato lo spettacolo di Interla e poi vedendo lo spettacolo lei ha riconosciuto la sua traduzione parto grazie parto dall'ultima faccio un gli attori sono stati sono credo straordinari la restituzione è incredibile cioè è totale noterete qualche piccolissima variazione parliamo di 5 6 parole su 6 ore devo dire che hanno fatto lavoro fin troppo rispettoso e Antonio gli ha chiesto questo quindi un grande grazie un grande grazie agli attori tornando alla prima mi ha chiesto di andare all'origine della parola di andare a cercare andare a cercare anche anche semplicemente cerca di capire ogni parola dall'etimologia da dove nasce perché quali sensi può aprire poi è chiaro che è una versione che comunque resta in qualche modo mia nel senso che ogni parola apre un bivio io devo fare una scelta però c'è c'è ad esempio questo tentativo c'è veramente quasi sempre quasi sempre anzi direi sempre posso fare molti esempi io ho un corollario di 1300 note su questo testo follia no follia follia ecco infatti abbiamo suggerito pubblichiamole perché no ma che sarebbe diventato un'enciclopedia però il lavoro del traduttore farai un seminario per traduttori perché penso che potrebbe essere molto interessante ovviamente tradurre un'opera del genere è un momento nodale nella carriera di un traduttore tu non fai il traduttore di professione però insomma per chi sì mi sta sempre più interessando devo dire questo lavoro sì sì perché forse è un lascito che se ce la fai è più importante che scrivo un testo ecco questo lo posso dire perché c'è gente che ha scritto troppo meglio di te è retorica però fino a un certo punto la cosa che mi avveniva signora che io traducevo amleto telefonavo ad Antonio e dicevo Antonio ma com'è incredibile e fa Federico amleto e dice no no è di più l'avamo già fatto c'è lo stupore lo stupore veramente di fronte quando hai qualcosa che ti supera ti supera supera tutti è tuo per primo e quindi dici come faccio e cerchi di restituire il possibile proprio il possibile è quello che alla base di quello che c'è poi ci sono delle scelte ad esempio che sono un po' da drammaturgo devo dire più che da traduttore no? il dire ok qui perché dice questa cosa logicamente no? perché utilizza questo termine allora l'azione se no non avrebbe senso oppure non avrebbe sarebbe contraddittoria rispetto a quello che viene dopo allora forse il senso di quella parola è quell'altro un esempio per tutti è stupid full full play che ho tradotto con estrema libertà pagliacciata con lo spettro estrema libertà ma ci sarebbe dieci ore solo per parlare di questo full play che oggi viene tradotto azione criminale però nasce dopo cioè nasce da Hamlet da Hamlet e qual era il senso originario? se io full play scioccazione è questo il punto sì perché entra poi in gioco la storia della lingua esatto quindi non solo la traduzione la dimensione letteraria la letteraria la letteraria che può avere una parola rispetto al tempo rispetto a oggi ma la storia della lingua perché effettivamente queste opere hanno poi dato vita a una serie di espressioni che sono diventate di scuole diffuse e il punto è quello che Shakespeare ha inventato anche delle molte parole e quindi anche quando sentite parole volgari va bene c'è questo culo che viene ripetuto spesso ok es può dire asino ciucco culo potrebbe essere una deviazione di hearts e quindi rotto in culo dipende contestualmente e lì è una scelta che devi fare ti prendi dei rischi perché però se mi hai chiesto di fare una traduzione io dei rischi devo prendere perché altrimenti altrimenti non ha senso cioè altrimenti è stata fatta come dire il tentativo è quello non ho risposto alla sua seconda domanda invece perché non la ricordo se conosceva già gli attori quando la traduzza solo tre sì sì poi più più conoscevo più cercavo di più immaginare immaginavo sì cercavo di immaginare però una delle penso questo lo devo dire una delle prime volte in cui anche da drammaturgo ho pensato alla restituzione del testo al di là di chi lo interpretava è una cosa che non faccio quasi mai però questa volta sì lo dico non l'ho mai detto ma questa volta sì bene così hai creato un prodotto per la collana della nostra della nostra Federica che appunto si radica nella teatralità e nella vita quotidiana del teatro però poi passa oltre quindi certamente pensato per questi attori ma ma non solo bene c'è un'altra domanda un'altra domanda ci ho provato ci ho provato non credo di esserci riuscito molto nei monologhi forse appunto cercando di mantenere le stesse figure retoriche non ho voluto riprodurre il blank verse non è traducibile non è indica sillabo quindi comunque bisognava trovare un modo una modalità di racconto la cosa che mi stupiva è che spesso nelle traduzioni non c'era distanza tra prose e poesia ma questo mi colpiva tanto cioè comunque sono versi e poi ci sono delle parti anche in prose da dove parla in poesia allora sì ho cercato di raccontare qui in un verso sciolto libero in qualche modo quella musica che racconta è chiaro che avrebbe bisogno di un ulteriore raffinamento mi viene da dire di un ulteriore limatura ascoltando anche molto l'inglese ascoltando ad esempio le versioni di Peter Brook e anche quella di Kenneth Branagh televisiva per sentire come suonava quella lingua lì perché a volte il suono dava il significato dicevo prima è chiaro che a teatro poi lo sappiamo però dava proprio il senso e bisognava cercare in qualche modo ad esempio che faccio posso fare oggi quello di uno dei primi onori di Amleto quando ho tenuto quell'essere sgelarsi non mi ricordo sgelarsi dissociarsi svelarsi rugiada dissolversi svelarsi tutto così anche faticoso da dire ma che rendesse questo sciogliersi della parola come se la carne fosse la parola perché si dico this is a solid flesh c'è la carne che si sta andando in putrefazione no questa solida carne potesse sciogliersi dissolversi svelarsi cioè senti il passaggio della carne che si sta andando in putrefazione è quello che sta dicendo lui credo credo e si ci ha provato non sempre credo sia riuscito io penso che tu ci sia riuscito molto molto bene se non ci sono altre domande osservazioni chiuderei qui l'incontro ringraziando Federico Bellini e Federica Mazzocchi per essere stati con noi qui c'è anche il libro in vendita per chi lo volesse è davvero prezioso quindi grazie a tutte e a tutti e buona serata grazie mille grazie a tutti